Bene, ben ritrovati a tutti. Anche adesso facciamo un altro paragone con un altro contemporaneo di Maggiolini, attraverso questo tavolino. Si tratta dei fratelli Cassina, non ci sono informazioni che siano stati allievi, quanto invece siamo certi che siano stati dei contemporanei, in quanto esiste un mobile pubblicato a Clelia Albrici del 1779, se non vado a errare, firmato dal Francesco, uno dei due fratelli, che dice il Francesco detto il Volpino, nello scritto mette anche il proprio soprannome. Si tratta di un mobile rococò, anche in quel caso quindi legato ad un gusto barocchetto tipico italiano, lombardo, di grandissima qualità, un po' come la storia di Mortarino, e che fa capire che la bottega è attiva ed è una bottega capace. La bottega si firma sia a Meda, in quel caso, che nel caso di questo tavolino a Milano. Difatti, in uno degli scomparti del cassetto frontale, c'è la firma dei fratelli Cassina, nel 1796 a gennaio fecero in Milano. Quindi evidentemente sono anche falegnami in Milano nell'epoca Ferdinandea, almeno fino alla fine, perché appunto è firmato 1796. La qualità di questo mobile è altissima, abbiamo un grandissimo gusto nell'alternare in filettature diverse la disposizione di questa boade violetta sul mobile, con queste riserve molto scure e gli intarsi molto chiari in legno di bosso. Quindi una scelta cromatica elaborata proprio per questo gioco complesso anche di filettature. Abbiamo senz'altro anche un gusto architettonico e di disegno del mobile particolarmente avanzato e capace, che potrebbe anche far supporre che in realtà non sia una produzione della semplice bottega dove i due falegnami inventano questo orredo, ma che ci possa essere in realtà una progettualità e un aiuto, almeno una collaborazione con un architetto o con un ornatista dell'epoca. Questo perché, come vedete, è molto insolita e particolare la realizzazione della gamba con questo collare molto stretto, tutto decorato con grande attenzione architettonica, questo grosso dado con i rosoni, con queste mensole d'appoggio per quelle che sono poi le tre azioni architettoniche che poggiano su queste due gambe. Il gusto anche della cura di tutti i particolari di movimentazione, cassetti che sono messi su tutte e tra i lati e che sono ricchi all'interno di scomparti e di segreti, che permettono ad accessi i divani particolari e nascosti che vanno poi ritrovati all'interno del mobile. Sulla parte decorativa c'è una grandissima attenzione a quello che è il gusto dell'epoca, cioè è evidente che questi ebanisti stanno guardando con particolare attenzione a quella che è la produzione di Albertolli in quegli anni e a quella che è la produzione e la realizzazione per le sale degli appartamenti reali all'epoca arciducali del palazzo arciducale dell'epoca che oggi è Palazzo Reale di Milano. Questo perché se noi guardiamo ad esempio l'elaborazione di intarsio del piano con questa disposizione, con questi grossi ottagoni, con dei rosoni interni, vediamo facilmente, ci riconduce facilmente a quella che è la realizzazione a stucco dei soffitti di alcune delle sale e che all'interno dei disegni che Albertolli licenzia per l'Accademia di Brera sono riscontrabili e ben visibili. Quindi possiamo parlare di una bottega di contemporanei che per la qualità che possiamo intravedere all'interno di questo orredo possono abbastanza competere con le produzioni più elevate e più importanti di Giuseppe Maggiolini. Quindi sia come capacità tecnica, l'intarsio ha le tessere molto avvicinate, non si vedono facilmente delle giunture, che per la parte invece di costruzione ideale e architettonica dell'arredo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione di questo video e alla prossima opportunità. Grazie. Grazie.